Bene, buonasera a tutti e benvenuti per questo incontro di fare non provare un ciclo di incontri dedicato soprattutto ai dirigenti scolastici ma anche alle figure di sistema delle nostre scuole. Io sono Vincenzo Caico, sono il dirigente scolastico del liceo Buonarroti di Monfalcone e vi presento gli altri speaker, gli altri relatori di questo incontro che sono Enrico De Grassi, Giorgio Iannis e il mio collega Pier Vincenzo Di Territzi dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Pordenone Centro. Enrico De Grassi è il presidente, il CEO possiamo dire, utilizzando una terminologia americana di ICON ICON è un'azienda che ha sede in Friuli Venezia Giulia a Staranzano ma che è un leader sia a livello nazionale ma anche internazionale nel campo del web, del mobile, della realtà virtuale, dei videogame ma anche delle installazioni interattive e immersive. Quindi abbiamo un esponente del mondo produttivo, delle nuove tecnologie che comunque ha anche una sensibilità particolare verso il mondo della scuola. Mentre invece Giorgio Iannis è uno studioso di Nuovi Media, Culture Digitali, è consulente per enti pubblici e per privati nel campo della comunicazione, dell'innovazione tecnologica e anche delle esperienze con quello che riguarda le politiche giovanili. Quindi anche lui potrà dire sicuramente la sua sul mondo della scuola. Benissimo, organizziamo questo incontro come una chiacchierata perché è un argomento molto ampio, parleremo del digitale oltre la didattica a distanza, conoscenza, networking e sviluppo, quindi praticamente un argomento estremamente ampio. Benvenuti a tutti, direi di partire magari con Giorgio e prendere spunto da questo titolo per parlare un po' dal tuo punto di vista di studioso, di fenomeni digitali, di quello che sta succedendo attualmente nel mondo della scuola. Quindi la didattica digitale ma cercare anche di andare un po' oltre per cercare di capire cosa c'è oltre la dad. Come stai vedendo tu in questo momento il mondo della scuola dal tuo punto di vista? Come dicevi giustamente tu, l'argomento è molto ampio. Proprio negli ultimi 7-8 mesi, cioè dal primo lockdown, abbiamo letto molti articoli oppure visto molte persone esperte a vario titolo di digitale, e questo bisogna dirlo, provare a ragionare su cosa avrebbe dovuto fare la scuola, come avrebbe dovuto attrezzarsi. Dico subito che sono cose che diciamo da 10-15 anni, quando parliamo di connettività ad esempio, o di formazione agli insegnanti, che peraltro è passata anche negli ultimi 15 anni, però l'emergenza, la necessità ha fatto emergere con tutt'altro colore questo argomento. Quello che vedo io e anticipo rapidamente, forse un argomento che emergerà dopo, è l'assoluta predominanza, quasi l'aspetto colonialista che ha avuto la videoconferenza, ovvero la trasmissione della conoscenza, se vogliamo dire così, o delle informazioni se non altro, attraverso la lezione frontale riproposta all'interno degli schemi iscolastici. In qualche modo è come una televisione, si stava televisivizzando la lezione, ma chiaramente senza tenere forse in considerazione la grammatica specifica del mezzo televisivo, innanzitutto, e poi di quello che costringe sia il docente che il discente nella sua posizione rispetto interlocutoria, rispetto alla forma della trasmissione dei contenuti, attivo, passivo, la lezione frontale. Questo è quello che ho visto, di cui ho visto molto parlare negli ultimi tempi, e chiaramente con molte voci autorevoli che dicevano attenzione, le possibilità, come si è visto in molti altri campi, purtroppo, del web, ricondurre al noto le possibilità, le potenzialità che gli strumenti offrono, poi nascono magari delle start-up, qualcuno che prova a prendere lateralmente i percorsi, si inventa un social network, si inventa una app che cambia il mondo in due giorni, ma, altrimenti, forse è umano, riprovare a ripercorrere le strade note. Ma questo non è decisamente compatibile con il contesto attuale, ovvero quello di una complessità della situazione della classe, del gruppo classe, del fatto di avere 20 ragazzini davanti con le problematiche che riguardano la connettività, i dispositivi, la competenza sulle pratiche digitali, che noi diamo magari per scontate, la gestione della password, la fruizione dei contenuti, sia da parte dei discenti, sia da parte dei docenti, del corpo insegnante. La necessità ci ha gettato sulla strada, qualcuno ha trovato qualcosa di buono da fare, qualcun altro non ha trovato certamente la chiave di volta dell'arco della costruzione su cui edificare tutta quanta l'istituzione scolastica, nel tempo dell'epidemia, nel tempo della connettività, nel tempo del digitale. Sì, mi aggancio a quello che stava dicendo Giorgio su questo punto. In effetti il tema anche di questi ultimi giorni, perché adesso è tornato tutto quanto prepotentemente sotto l'attenzione, è un po' la liberazione dalla videocrazia, come è stato usato il termine in ambito sociologico, cioè questo impero di semiotica televisiva che ancora ci accompagna, ma rispetto al quale abbiamo tantissime altre possibilità attraverso le quali costruire l'idea di presenza. Ad esempio c'è un ritorno di attenzione alla fruizione audio e anche al sottolineatore di quella che viene chiamata da Roland Barthes, la grana della voce, che è di più recente impatto e che vedo che tra i giovani e i giovanissimi sta molto funzionando. Per noi magari è più legato al piacere dell'ascolto dell'audiolibro fatto con qualità. Voglio dire che c'è una posta in gioco, visto che guardiamo oltre, molto importante e qui sicuramente chi guarda le cose dal punto di vista di una factory che lavora molto su queste tematiche, ha parecchio da dire anche noi a scuola, che c'è anche una plurisensorialità che viene rimessa in movimento. Poi magari diremmo anche qualcosa sull'idea del tempo, dove lo stare nel tempo, che so che è un tema che anche a Giorgio interessa molto. Ma qui sicuramente il nostro ospite di Icon ha molto da dirci. Sì, Pier Vincenzo, proprio mi collego volentieri a questa tua ultima affermazione e anche a quello che ha detto Giorgio poco fa, innanzitutto affermando una cosa, ovvero che se è vero che ci siamo tutti quanti buttati e tuffati in questa didattica distanza videocratica dove le video call l'hanno fatta da padrone, abbiamo visto subito intanto quelli che sono i limiti del mezzo e quelli che sono i limiti della nostra infrastruttura tecnologica a livello del Paese. Parlo di cose che potevano sembrare influenti nel momento in cui non ci avevamo a che fare ogni giorno, ma latenza, problemi di connessione, rendono la comunicazione veramente complessa. Cioè nella didattica in presenza noi abbiamo una condizione ideale per cui abbiamo latenza zero e l'insegnante parla e più o meno tutti gli studenti percepiscono in tempo zero quello che viene detto, non c'è un problema di connettività. Già il fatto di dire, ok, facciamo la stessa cosa, quindi sempre vogliamo un modello, ma riproponendo esattamente lo stesso modello attraverso la video call, ci accorgiamo che questo tipo di sfasamento, per cui fra quando parlo io e quanto senti tu passano due secondi e qua nella call che stiamo facendo adesso c'è, la percepiamo questa latenza, crea delle distonie, no? Quindi il sommarsi di tanti di questi fattori fa sì che ci rendiamo conto innanzitutto che abbiamo della strada da fare, innanzitutto per mettere al passo appunto la nostra infrastruttura tecnologica a livello di banda, di infrastruttura, di connettività, di strumenti, di device, questo è sicuramente il primo passo. Il passo successivo è secondo me molto interessante, proprio legato all'idea di presenza. Ora, questo schermo che noi guardiamo anche in questo momento, che ci consente in qualche modo di parlare tutti assieme, di partecipare a questo evento, in realtà sta mettendo una distanza importante, perché non abbiamo la percezione, intanto io in questo momento ho la percezione dei relatori e tutti gli ospiti li vedo come dei bei guest allineati sul bottom del nostro schermo, ma mi aspetto che appunto un'esperienza di didattica digitale riesca a creare un'idea di presenza molto più convincente di quella che adesso viviamo attraverso questo tipo di approccio. Mi aspetto per esempio di avere la possibilità di avere un ambiente collaborativo, e io qua guardo subito a quelle che sono le tecnologie con le quali noi stiamo sperimentando, che sono quelle della realtà virtuale, della mixed reality, della realtà aumentata, dove il concetto di esperienza multiutente non avviene su questa scacchiera di facce che si allineano nel nostro schermo, ma avviene magari all'interno di uno spazio virtuale, all'interno del quale io e altri utenti possiamo essere presenti nello stesso momento, possiamo non solo guardarci attorno a 360 gradi, ma possiamo muoverci, possiamo usare le nostre mani perché ormai i visori di seconda generazione con tracking a 6 gradi di libertà ci consentono di muoverci, di usare le nostre mani per interagire con gli oggetti, e adesso con gli ultimi device che stanno arrivando sul mercato ci consentono per esempio di avere il face capture, per avere l'espressività delle persone che all'interno dello spazio virtuale partecipano a delle attività, quindi posso vedere se una persona sorride o è sorpresa, ecco, sono tutta una serie di ingredienti che, come dire, tante volte ci perdiamo ecco in questo primo stadio di esperienza, di didattica online, dove tanto, gran parte del messaggio secondo me si perde proprio per come e per il mezzo che stiamo utilizzando e per la modalità con cui viene utilizzato. Aggiungo una cosa piccolissima, che quello di cui sta parlando Enrico non è futuro o futuribile, cioè gli esperimenti documentati sulle banche dati del Ministero dell'Istruzione che riguardano l'utilizzo dei mondi attivi o mondi 3D che proprio io personalmente ho accompagnato classi scastiche, anche delle primarie, a costruire dei mondi come quello che fanno oggi con software, con applicazioni moderne, è una cosa che ha più di 15 anni, anche 20 anni. Si comprende molto bene in termini pedagogici l'importanza di questa azione, coinvolgere il gruppo classe, la motivazione, la suddivisione dei compiti, giungere all'obiettivo didattico attraverso un modo laterale, attraverso la costruzione di un vero e proprio mondo, dentro cui allestire esperimenti di chimica, di fisica, la presentazione del visaggio, oppure delle mostre artistiche, qualunque cosa. E non è qualcosa appunto che, o tutte quanto quelle altre cose di cui abbiamo parlato, sono cose presenti da te e facilmente anche implementabili, tra virgolette, nelle scuole. però il video, la videocrazia, ci ha subito rubato la parola, ecco. Ed è vero quello che diceva anche in via Pier Vincenzo del ritorno di un'oralità, che però, attenzione, non è un'oralità scritta, è una scrittura che diventa parola, queste cose strane che il web ci ha insegnato. Non è più un linguaggio scritto, assomiglia più a un linguaggio iconico, un iconolese, assomiglia a un modo diverso di comunicare. E queste qua sono competenze linguistiche, che poi diventano competenze relazionali, che vanno assolutamente indagate, coltivate e comprese, per poi abitare in maniera coerente, vissuta, gli spazi del digitale. Perché là dentro, qui dentro, noi ci comportiamo con la grammatica degli spazi del digitale. E non solo da ieri, noi tutti abitiamo, almeno dalla DSL, primi 2000, se non qualche pioniere dagli anni 90, o primi anni 90, dentro uno spazio con le sue regole, le sue strutture, le sue linee, i suoi modi di fare, i suoi comportamenti, le sue tribù, le sue sociologie, le sue etnologie. Grazie Giorgio. In effetti però, passare dal vecchio mondo, al nuovo mondo, quello del digitale, quello della didattica online, non è stato semplice per tutti. Io da dirigente scolastico, ma anche ovviamente da ex insegnante, ho notato che la difficoltà maggiore che hanno dovuto affrontare gli insegnanti è stata quella di abbandonare degli schemi precostituiti e, come dire, la tentazione di replicare online quelle che erano delle modalità che potevano essere realizzate solamente invece in presenza. Il digitale quindi ha il suo linguaggio, le sue modalità, ma questo vale anche per gli studenti, perché una cosa che si è notata è che è vero che i nostri studenti sono dei nativi digitali, e come dicevi tu in un incontro che abbiamo avuto prima, Giorgio, i ragazzi oggi non dicono noi ci vediamo in videoconferenza, ma dicono direttamente noi ci vediamo, intendendo noi ci vediamo come il vederci online. Però è anche vero che a loro mancano un po' delle basi che si possono acquisire attraverso un'educazione ai media, un'alfabetizzazione digitale, ovvero loro sono bravissimi magari a utilizzare i dispositivi e a intuire subito come si utilizza un'app, però magari non sanno bene i meccanismi che ci stanno dietro. Quindi quali sono secondo te le competenze che devono, se vogliamo appunto parlare di competenze, quali sono le competenze che dovrebbero acquisire gli studenti e magari anche quelle che dovrebbero acquisire gli insegnanti o quelli che come noi proveniamo da un mondo che inizialmente non era propriamente digitalizzato? A me dici, rispondo? Sì, sì, Giorgio. Ah, sì. Sì, appunto, nativi digitali non vuol dire automaticamente competenti. Sappiamo che l'equazione da lungo tempo è stata spezzata perché comunque c'è una curva di apprendimento per radicare la conoscenza nelle persone e quello che sembra intuitivo, facilmente automatico, magari per un nativo digitale, non è così scevro di rischi, di qualcosa che può andare storto, insomma. Se parliamo di competenza, noi parliamo di un saper fare, cioè nei termini classici, credo, delle impostazioni pedagogiche, stiamo uscendo da conoscenze intese come saperi o abilità o capacità che noi abbiamo sul singolo contesto didattico, diciamo, di scuola, o anche della vita, poi vabbè, e sappiamo trasferire questo nostro fare da un'altra parte, quindi diventa un nostro saper fare in altri contesti. Ora, la questione per me, gli obiettivi su cui si potrebbe ragionare, se continuiamo a ragionare di digitale nella didattica, rimaniamo preda, prigionieri di una dialettica, continuiamo a vedere il digitale come uno strumento che si aggiunge, che va benissimo, posso fare molte cose, posso fare, parafrasando, educazione ai media, posso fare educazione con i media, va benissimo, quindi scuola, didattica con i media, posso fare educazione ai media, posso andare a ragionare invece sull'intero ecosistema del mondo mediatico in cui noi ora siamo calati, dalla nostra identità personale ai nostri comportamenti online, ai luoghi di frequentazione. Questo fa uscire, come auspicabile molti vecchi saggi lo dicono tuttora, potrebbe essere un'occasione d'oro questa per la scuola italiana per cercare di rivitalizzare dinamiche di ragionamento che riguardano il capovolgimento della scuola, superare le quattro mura, rivolgersi al territorio, far entrare i saperi e farne uscire altri. Insomma, se riusciamo a inquadrare quindi il digitale nella scuola all'interno di un orizzonte di senso più ampio, quindi uscendo dagli obiettivi didattici, ad esempio, della formazione, ma avendo a cuore quelle che potrebbero essere le competenze di un cittadino, di una cittadinanza. Poi è automaticamente digitale, perché noi abitiamo in un mondo connesso, quindi non aggiungo l'aggettivo digitale a cittadinanza. Riuscire a formare una persona che giunta la maggior età è consapevole del mondo in cui si muove, nel mondo in cui abita, che vuol dire sapere come funzionano le poste, oppure le banche, oppure i tassi di ammortamento, lo spread, e anche gli account digitali, i luoghi digitali, i social e tutto, vuol dire avere avuto un obiettivo più ampio, a cui poter poi, in questo momento, riorganizzare, ricalibrare tutto quello che viene poi fatto in classe. Se, come dicevamo prima, ricadiamo in una lezione frontale, dove il video con la sua grammatica, con lo schermo, con la distanza, la fa da padrone, possono passare alcune cose, magari anche molto bene, ma altre non ne passano. Se invece utilizzo altri strumenti, o gli stessi strumenti in modo laterale, di una didattica digitale integrata, questa cosa mi obbliga a rivedere l'organizzazione scolastica stessa, l'organizzazione per orari, per materie, per gruppi, per tematiche trattate, e muove a quel punto i giovani alunni in un'azione che è quella di una prega di consapevolezza riguardo al mondo in cui abitano. Non posso insegnare direttamente il computer, si diceva una volta, perché non c'è nessuno di noi ha imparato il computer con il manuale, però mentre faccio quella cosa con il computer, imparo a farne un'altra, oppure comprendo il funzionamento di un altro aspetto. In questo modo possono passare in maniera laterale le consapevolezze necessarie alle competenze. Poi sui saperi, secondo me, la cultura tecnologica sarebbe fondamentale, proprio nella sua filosofia, che non è cultura scientifica, è una capacità di vedere il mondo, di leggere il mondo per come viene costruito, elaborato e come è possibile migliorarlo, progettandolo e migliorandolo continuamente. E diventano sapere e capacità, queste sì, poi possono essere legate in contesti più ampi. Questo è un modo da fare. Se mi è permesso un piccolo esempio. Io 15 anni fa vedevo le maestre delle elementari, lavoravo molto sulle primarie quella volta, che riuscivano a prendere uno strumento famigerato PowerPoint per realizzare con il PowerPoint qualcosa per cui PowerPoint non era stato pensato. PowerPoint nasce ancora nel 1990, addirittura senza i bottoni per testuali, come strumento di supporto ai relatori dei convegni, per proprio la proiezione di slide, era una lavagna luminosa, ma girandolo come un guanto. E questo è un meraviglioso esempio di cultura tecnologica, di approccio mentale, di mindset, di postura mentale, riuscì a fargli fare quello per cui non era stato progettato, storie interattive, narrazioni, mostre fotografiche, animazioni e cose simili. Quella stessa cultura sarebbe richiesta oggi e ci sono insegnanti che, come al solito, lo fanno, che riescono a traghettare il loro obiettivo, a traguardare, come nel biliardo la biglia e il birilli, andare oltre il birillo, la biglia, e guardare al di là, verso la buca, traguardando il nostro obiettivo. Perché l'obiettivo in realtà è più alto, è un risultato atteso in termini progettuali, cioè le competenze di cittadinanza auspicabili per quelli nati perlomeno nel ventunesimo secolo, che sono altre persone da noi, certo. Grazie Giorgio. Prego Enrico. Mi volevo solo agganciare a questa cosa che ha detto Giorgio, che secondo me è fondamentale, cioè il digitale, noi non ci rendiamo conto, molto spesso perché adesso siamo imprigionati in una moccanica ben definita, se parliamo di didattica, ma il digitale ha un potenziale enorme, che è proprio il potenziale di scardinare, in qualche modo di rivoluzionare i metodi che sono, come dire, consolidati e ormai frustri, se vogliamo, ormai hanno bisogno di essere riveduti alla luce di tutto quello che è successo e di tutto quello che sta succedendo. Quindi la provocazione vera è usare il digitale nella pienezza della sua potenzialità proprio per ripensare le dinamiche della didattica e proprio la relazione tra docente e studente. Quindi, Giorgio, mi trovo d'accordissimo con te su questo punto. Allora, nel frattempo, i nostri spettatori, i partecipanti a questo incontro dovrebbero avere a disposizione un pulsantone rosso che permette a loro di porre delle domande. Quindi invito chi ci ascolta a farsi avanti, a scrivere le proprie domande e poi in coda a questo incontro noi le gireremo ai nostri due esperti e quindi in maniera tale da fare anche partecipare per chi solamente ci può ascoltare in questo momento. Pier Vincenzo. Sì, volevo far notare questo. Sia Giorgio nel suo intervento che Enrico, in questo passaggio ultimo, hanno toccato molto il tema della trasformazione dell'ambiente dentro cui noi siamo collocati. Sostanzialmente una parola che ha qualche anno ma che si carica di significato per noi è proprio l'antico concetto di infosfera. Siamo ancora dentro, anzi è un'infosfera che si è arricchita, si è fatta più complessa, più articolata, più iconica, come diceva Giorgio, molto più sensoriale. Vedevo alcuni prodotti TACIA ad esempio su cui ha lavorato Enrico con la sua factory che fanno molto pensare a questo. Ha grandi prospettive anche per noi a scuola per ripensare alcuni ambiti, ad esempio la disabilità per la quale si aprono delle pratterie, a patto anche qui di andare oltre il recinto e anche oltre il punto di vista. In fondo la scuola dentro le sue mura chiuse produce un punto di vista, è uno spazio, è un perimetro di definizione anche di ciò che si sa, mentre la dimensione direi irrevocabile in cui il gioco, per citare il libro di Baricco, è andato, è una dimensione nella quale ci portiamo dentro una bussola attraverso la quale misurare il senso di quello che apprendiamo, ma in uno spazio di apprendimento che è continuo, in cui anche per esempio quindi riconoscere, validare l'apprendimento diventa una sfida totalmente nuova. Vedo che infatti anche chi lavora, produce servizi, produce beni per questo, ci si sta molto confrontando, insomma, vedevo anche alcune delle installazioni che sono legate all'attività di Enrico, producono conoscenza e una conoscenza anche di comunità altrettutto vorrei dire che è una dimensione nuova che avanza anche se a noi pare di essere frammentati continuamente nella visione customer, in realtà ci sono delle possibilità di costruzione di comunità clamorose che l'azienda conosce molto bene anche. Assolutamente sì, tanto che mi viene sicuramente quasi di superare il concetto di infosfera, così come lo avevamo definito nel passato, sempre di più il tema esperienziale entra proprio in maniera prepotente diciamo nel mondo digitale, quindi vivere un'esperienza diventa un po' il centro e diventa anche un espediente se vogliamo didattico per rendere un concetto, un contenuto molto più vivido e molto più memorabile. Noi lavoriamo tantissimo quando facciamo anche installazioni digitali in ambito museale piuttosto che in diversi contesti proprio sul fatto di riuscire a creare delle esperienze che abbiano una componente emozionale foro mettendo proprio l'utente al centro di un'esperienza. Ecco che lì possiamo utilizzare tecnologie diverse, tu ho citato gli schermi cazzo e poi possono essere appunto esperienze sul territorio che legano attraverso i device mobile la realtà aumentata gli utenti al territorio possono essere delle esperienze immersive in realtà virtuale in cui la persona si sente proprio al centro di una situazione l'abbiamo fatto per il museo della grande guerra proprio sul monte san michele dove abbiamo voluto per esempio reinventare un vecchio museo che usava proprio un metodo di una volta che avevamo detto le baccheche con i reperti bellici e un po' di pannelli alle pareti per leggere così proprio didatticamente mi avrebbe da dire alla vecchia un po' di informazioni su quello che è successo in quel luogo e abbiamo trasformato un museo digitale che usa un'esperienza quindi abbiamo creato delle esperienze immersive in cui gli utenti si trovano a vivere delle situazioni della prima guerra mondiale che si trovano in primicea si trovano nell'ospedale da campo i racconti che sentono sono le vere lettere dal fronte dei soldati e questa cosa noi vediamo le persone quando tolgono il visore hanno veramente tessuto un'emozione e lasciano sul registro del museo veramente noi siamo rimasti sviluppiti da quanto un piccolo esperimento abbia lasciato un segno nelle persone che ci arrivano quindi ecco secondo me il passaggio è anche quello di venire via da un mondo di didattica fatto di informazioni che vengono trasmesse a invece esperienze da vivere in prima persona nei luoghi quindi uscire proprio dalle mura della classe delle dupli usare la tecnologia per fare questo tipo di viaggio secondo me è fondamentale grazie Enrico no mentre voi parlavate mi veniva in mente quanto tempo è passato e quanta evoluzione c'è stata nel mondo della rete da quel 1999 2000 quando è stato pubblicato il Clue Train manifesto che diceva che i mercati sono conversazioni oggi mi verrebbe un po' da dire che l'apprendimento è conversazione perché la rete mette in primo piano l'aspetto relazionale che è fondamentale nell'apprendimento di qualsiasi persona quindi i nostri insegnanti hanno scoperto appunto questo che come dice anche il nostro ministro dell'istruzione questa è una didattica del riavvicinamento non è una didattica della lontananza e l'aspetto relazionale ha una valenza fondamentale anche perché si annullano le distanze ci sono scuole che stanno sperimentando delle attività didattiche anche con classi di studenti che stanno dall'altra parte del mondo degli scambi online con scuole americane con scuole di altri paesi e Giorgio Iannis quanto è importante l'aspetto conversazionale vent'anni dopo alla luce diciamo dei nuovi strumenti che oggi abbiamo a disposizione secondo te è tutto la rete stessa al web è un collegamento ipertestuale tu dicevi la relazione la rete è tutta relazione di nodi tra nodi dove la parte importante sappiamo per studi è proprio la relazione lì che nasce si coltiva e viene cullato il senso di quello di quello che avviene la conversazione è quella che abbiamo cercato tutti quanti in questi ultimi vent'anni che tu dicevi che tuttora stiamo cercando nel fiorire i sistemi di messaggistica sempre più elaborati con i problemi della privacy con i problemi della con la possibilità dell'audio abbiamo visto gli ultimi ritrovati cioè con una riscoperta diceva Vincenzo delle dimensioni che lo schermo come parola scritta non permetteva ci sarebbe di nuovo la vecchia battaglia tra cultura scritta che permette accumulazione e quindi soluzione di gerarchia dei saperi e quindi dei poteri rispetto alla parola orizzontale e stiamo parlando di cose che parli di cui parliamo da 2400 anni circa l'apprendimento come conversazione l'apprendimento nel chiacchierare liberamente in una piazza di una città in una stanza in un salotto di qualunque epoca le parole chiave che diceva Enrico in realtà che voglio ripetere perché sono esattamente quelle su cui potremmo reimpostare le dimensioni del nostro ragionare di un andare oltre la digitale didattica della BDI la didattica digitale integrata oppure di come dicevo prima di concepirla all'interno di un contesto cambiato come è quello in cui viviamo della collettività in assoluto che è qualcosa che l'umanità ha sempre vagheggiato e che negli ultimi 25 anni riusciamo a fare sono un po' di parole chiave intanto c'è l'ecosolomo che credo che abbia anch'esso 15 anni c'è un acronimo che stava quella volta indicava nel 2005 credo quelle che sarebbero state le direzioni del futuro ed erano molto chiare molto semplici che era social local e mobile e noi in questo momento stiamo effettivamente vivendo in un modo che è social local e mobile perché è vero che leggiamo anche i giornali americani o ci informiamo forse a volte per colpa di pessima informazione su dei fattoidi che avvengono in qualche parte sperduta del mondo ma è pur sempre conoscenza e siamo consapevoli in maniera diversa da 20 anni fa degli strati di umanità che insistono sul nostro stesso territorio perché vediamo emergere identità collettiva attraverso le rappresentazioni mediatiche che le collettività producono ogni giorno leggere commenti su facebook al quotidiano locale ci fa nascere in mente un'idea di chi siamo e sto parlando di un'area geografica piccola 40 km di raggio non lo so che non pensavo che fosse possibile e invece devo rivedere le mie idee sull'umanità che mi circonda sui miei coevi in qualche modo e questo vuol dire local e questo è permesso anche dal mobile perché ovunque io sia sono connesso anche questo era un vecchio nostro sogno gli strumenti di comunicazione cos'è che hanno fatto attraverso le emoti con le emoji attraverso le stili le grammatiche i video i vocali è stato recuperare dicevi tu Vincenzo quegli altri aspetti che sono l'esperienza dell'esserci qui e ora in contatto permanente a distanza di un click da tutti quanti i miei amici poter intavolare una discussione mantenerla nel tempo gli aspetti affettivi una forma di acculturamento per le giovane generazioni perché sono modalità di nuovo dico la stessa parola grammatiche retoriche in senso buono in senso cattivo se volete ma del modo di darsi al mondo che è quello che noi stiamo cercando di comprendere e traghettare le nuove generazioni verso un mondo connesso stiamo noi stessi stiamo imparando abbiamo alcune punti fermi li abbiamo per l'esperienza che abbiamo ma sicuramente ci sono delle modalità nuove che le nuove generazioni praticano che a noi sfuggono come ci può sfuggire l'importanza di tiktok ad esempio per quanto sia divertente ma ci sono dei risvolti esistenziali in tiktok che non posso comprendere appieno perché non è un linguaggio in cui sono nato è un linguaggio che ho appreso la tematica della comunità quindi esperienza affettività ho esorta è nata è emersa come segnale debole non so come dire la comunità in cui disiedo tutti quanti gli esperimenti che riguardano partecipazione ad esempio non solo politica anche raccogli le firme oppure vieni anche tu su questo sito vieni fai condividi sappiamo molto bene sono pratiche di partecipazione che portano a sentimenti di appartenenza praticare quella partecipazione a quel social a quello strumento a quella messaggistica quel luogo web in cui mi sento bene mi trovo comodo negli anni perché stiamo parlando di tanti anni di frequentazione online crea in me una parte una una appartenenza a quella io sono uno di quelli che dico a me stesso l'identità poliedrica sfaccettata e composita della non può non essere anche identità digitale oggi non può non farsi carico di queste dimensioni del mio abitare abitare il mondo fisico e abitare il mondo digitale didattica verso la formazione enciclopedica direi della persona del cittadino non può non tenere in considerazione tutti gli aspetti che intersecano il mio fare e che si riverberano pesantemente sulla definizione che io ho a me stesso che noi facciamo oggigiorno nessuno di noi non ha la propria rappresentazione della propria identità le dimensioni digitali del nostro abitare grazie Giorgio mi sembra che stiano arrivando delle domande dai nostri chiamiamoli spettatori Pier le riassumo velocemente anche perché abbiamo un punto in comune così poi le lascio sia a Enrico che a Giorgio perché possano rispondere poi ci avviamo credo verso la conclusione del nostro spazio allora sostanzialmente come superare un certo scetticismo nel mondo della scuola nei confronti dell'impatto delle nuove tecnologie che tipo di formazione possiamo immaginare di proporre e per chi volesse già adesso andarsi a informare di più sul beneficio del virtuale rispetto alla formazione dove cominciare a muoversi ecco quelle domande lascio la prima a Giorgio che secondo me è più indirizzata forse al suo bagaglio esperienziale e poi io rispondo alla seconda ok secondo me bisogna partire dai docenti c'è poco da fare i docenti prima di essere insegnanti sono persone io non ci credo che in un'italia in cui 30 milioni di persone sono su facebook in cui il 40% usa l'home banking in cui chattiamo continuamente per milioni di ore al mese su whatsapp o sui vari insumenti di messaggistica non posso credere che queste persone con la loro professionalità non sappiano portare dentro le pratiche didattiche quotidiane qualcosa di positivo di bello di gradevole di divertente che hanno saputo individuare nel loro essere normalmente persone che hanno a che fare con le tecnologie con nuove tecnologie non più tanto nuove se questa cosa qui passa attraverso il gioco e attraverso il divertimento degli insegnanti parlo come quelli che dicevo prima una pinterest che sia tiktok che sia ebay comprare cose fare torte aprire un blog qualunque cosa qualunque social ce ne sono tanti non c'è soltanto facebook in italia per fortuna allora mentre faccio qualcos'altro imparo queste persone che poi vanno a scuola e diventano insegnanti nel momento in cui se marcano la soglia forse lo sono sempre mentalmente d'accordo però vorranno dei modi per poter piegare gli strumenti come dicevo prima a una finalità che non è quella per cui è stata progettata le mappe di google le rappresentazioni sui media maneggiare video maneggiare fotografie con strumenti avanzati non è una cosa da informatici questa è la grande il grande diaframma da rompere no il fatto che questo scatolotto grigio che troviamo da 25 anni sotto la scrivania oppure siano un po' opache e invece sono completamente trasparenti come dicevamo prima i ragazzini non le vedono noi siamo online non è che siamo online attraverso lo strumento riuscire a rompere questo genere o un informatico per fare un editing video quando si tratta solo di capire dove tagliare come copiare come salvare tempo un anno una persona diventa abile a svolgere la maggior parte dei lavori che vengono fatti oggi in rete e che teniamo presente con una famosa massima noi non sappiamo ancora che cosa faranno il lavoro i nostri ragazzi in questo momento una didattica le sta preparando a qualcosa che loro non sapranno affrontare perché ancora magari non esiste il lavoro che dovranno fare nel corso della loro vita c'è solo un modo per risolvere del problema che è lasciar perdere l'obiettivo e cercare invece di ragionare sul contesto allora il messaggio assume senso perché sto lavorando a comprendere il contesto in cui questo avviene e il contesto è quello che abbiamo raccontato finora cioè il tumultuoso cambiamento di tutta quanta la società che ci circonda in ogni suo piccola virgola e in ogni suo piccolo rivolo in ogni aspetto della società dalla sanità alla telemedicina alle rappresentazioni alle modalità di partecipazione civica politica alle banche alla finanza qualunque cosa per noi in cui potremmo divertirci e mettere a frutto il nostro divertimento inventando modi nuovi secondi di abitare la rete grazie grazie Giorgio Enrico sì allora un appunto su questo tema della realtà virtuale che per noi appunto come azienda è sicuramente un focus importante su cui appunto stiamo lavorando da diversi anni innanzitutto ci tengo a dire che la realtà virtuale è una tecnologia che sta maturando in forte evoluzione diciamo che c'è stato un passaggio da una prima generazione di device che diciamo è stata prodotta attorno al 2015 e adesso siamo arrivati a una seconda generazione che è molto più diciamo sofficiale di questa tipologia di tecnologie è in forte è in forte aumento come qualsiasi strumento nuovo e mi rialaccio a tutti i discorsi fatti in precedenza stiamo parlando di qualcosa che ha delle potenzialità ancora tutte da esplorare quindi di uno strumento che ha per forza di cose deve essere utilizzata con un nuovo linguaggio con una nuova semantica tutto questo richiede secondo me della sperimentazione e fare questa sperimentazione con le scuole con i ragazzi con i docenti è divertente quindi ancora una volta mi rialaccio a quello che ha detto poco fa Giorgio cioè perché non esplorare assieme ai ragazzi le potenzialità di questi strumenti perché non utilizzarli per fare della didattica partecipata noi nel nostro piccolo facciamo questi esperimenti con diverse scuole diverse classi in cui coinvolgiamo docenti e studenti nel creare contenuti immersivi che poi vengono condivisi a livello di classe a livello di istituto ovviamente questa cosa può essere fatta a diversi livelli di complessità però il mio suggerimento è quello di rompere il ghiaccio e iniziare a sperimentare con le nuove tecnologie perché questa cosa potrà sicuramente fare solo che del bene avvicinare ragazzi e studenti e insegnanti della nostra benissimo siamo in chiusura ancora un ultimo minuto c'era una domanda posta dalla nostra collega dirigente Paola Portoletto che dice si potrebbe parlare di educazione all'affettività nel digitale Pier Vincenzo magari lascia a te la chiusura con la coda di questa domanda tu che diciamo provieni da una educazione anche di carattere umanistico potresti dare anche una risposta alla collega che dici? Ma chiediamo chiediamo aiuto per dare questa risposta conclusiva al titolo di un bel libro su una di un grandissimo interesse per le questioni scientifiche tant'è vero che gli fu ferta anche una cattedra universitaria che è Giacomo Leopardi che come sapete ha anche una possibilità in questo senso in Germania c'è un bel libro che si chiama Pensare per affetti di uno studioso italiano che si è dedicato a conoscere Leopardi che si chiama Rigoni ecco allora l'affettività è in realtà è un campo di possibilità di esperienza che è legato alla nostra attribuzione di senso e di relazione a ciò che abbiamo intorno credo che oggi i nostri due ospiti ci abbiano fatto capire che c'è una possibilità di stare dentro il mondo e di esplorare il mondo sia nella sua dimensione fisica che in ciò che le realtà fisiche suggeriscono ad esempio appunto vedere un posto e tramite la realtà virtuale visitare nello spessore storico ciò che è stato come è stato nelle sue dimensioni che scatena dentro di noi una disposizione alla tensione affettiva e non soltanto al consumo sensoriale certo è una grammatica tutta quanto da costruire c'è una nuova atlantide sostanzialmente dentro la quale siamo collocati forse noi viviamo questa esperienza di passaggio tra mondi diversi e quindi ne abbiamo un punto di vista inevitabilmente molto avveniamo ma insomma è vero che le terre promesse sono di quelli che poi ci stanno dentro ma qualcuno il viaggio lo deve puffare e questo credo sia il nostro contributo benissimo grazie Pier Vincenzo siamo in chiusura grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo incontro e grazie soprattutto ai nostri due speaker ospiti Giorgio Iannis ed Enrico Degrassi speriamo di rivederci presto anche in altre occasioni belle come questa grazie anche a Pier Vincenzo di Terlizzi e buona serata a tutti grazie a tutti grazie a tutti arrivederci